Ciao a tutti ragazzi, qui per la Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci spacchettiamo un po' di Russia 2018. Queste bustine purtroppo costano tantissimo, 1,50 euro per le solite 5 o 6 card, non ricordo, mi sembra fossero 6. 6 card dentro e costano 1,50. È veramente esagerato. È tantissimo perché l'adrenaline di questa notte la serie ha 1 euro 6 carte e quello già era un prezzo più recebole. Ora erano 5 o 6, non ricordo, comunque 1 euro è ben differente da 1,50 perché con 3 euro prendete solo 2 bustine. A presto di 3, perciò ragazzi è una collezione che non porteremo magari spesso quanto le altre, però ci fa sempre piacere portarla. Cerchiamo di portarla perché ce l'avete chiesta in tanti, le sticker ancora non le abbiamo trovate, però portiamo magari sì qualche video ma con meno bustine perché appunto non possiamo permetterci di mettere 10 bustine a video poiché il prezzo è davvero alto. Una testa con l'artwork di Isco, Ronaldo, Suarez e altri due, scusatemi l'ignoranza ma non li conosco. No, neanche io. No. Ok, chi parte? Vai, inizio io. Parti Alessia. Prendo questa centrale. Speriamo di trovare qualche bella rarità. Le prime bustine non ci avevano dato delle belle rarità, devo essere sincero, però... La seconda apertura che abbiamo fatto... Abbiamo spacchettato ancora poco comunque di questa collezione, c'è tanto da scoprire ancora. E magari anche a giugno, luglio queste bustine le porteremo, chi lo sa? Ok. Spacchettato, chiedeteci, diteci anche se volete il gioco online perché potremmo comunque attivare queste card e giocare il gioco online. Allora, iniziamo con Puralingangi. Ok. Mori. Dell'Argentina Fines Mori. Herrera. Con varie orecchie. Doveva venire a Napoli per centinaia di volte, non c'è mai arrivato. Zagoev. Rara. C'è la rara, c'è la rara. Una rara. Pogba! Pogba! Incredibile, con 87 di controllo, 75 tacco, 77 difesa. Una grande carica, ragazzi. E vediamo un po' al tatto com'è. Ruvida. È un centrocampista. Vediamo, vediamo, vediamo. Oli. Fast favorite. Obi Mikkel del Chelsea, se non sbaglio. Forse sta ancora al Chelsea. Non lo so. È nigeriano, va bene. Della Nigeria, fast favorite, non male. Non male. È una rara. E abbiamo trovato anche Pogba, che comunque è un signor giocatore con delle ottime statistiche anche sul gioco online. Non è niente male. Ok, prima un pacchetto per Alessia. Non male, almeno abbiamo trovato una carta rara. Vassimono, vado io? Vado io, dai. Vado io, dai. Vado io, ci lasciamo la manita per ultima, anche se un po' scuotimento lo faccio anch'io, porta sempre bene. Dai, dai. Comunque, spacchettare le busine con le cards è tutta un'altra bellezza. Allora, Elneni, ok. Poi, Lemar, sempre della Francia, un altro gran bel giocatore. Ndoye, Tapia, c'è la rara, ok. Ottimo. È già questo un bel segno. Poi, non lo pronuncio neanche, Zdikia, ok. E ora la rara. Game changer, con ottime statistiche, dell'Islanda. Dell'Islanda. E Sigurdsson dell'Islanda. Molto ruvida questa qui. Bella. Bella, dai. Ci sta. È una bella carta con delle ottime statistiche, soprattutto in controllo, ragazzi. L'Islanda nazionale che all'europeo ha fatto davvero i miracoli, ha fatto i miracoli, quell'europeo è restato nella storia. Bella carta, bella carta, dai. Ci saranno i mondiali poi, chissà che faranno adesso i mondiali. Beh, sicuramente supporteremo l'oro, non avendo l'Italia. Hanno la maglia simile, poi. È un peccato non avere l'Italia mondiale, ragazzi. Eh sì. Mamma mia. E ora la manita che con queste fusine qui ha sempre lì più contato. Sì, ragazzi. Sono lisce, non so perché, ma non mi ci trovo tanto. Però sono belle da aprire. Sì, sì. Oddio. È qua in Islanda. Con quali capelli? Bjarnason. Bjarnason. E l'Amadi. Questo qua è Kazri, della Tunisia. Qualche belto player. Rose. Dai che so che c'è la rara, c'è l'altra. Abbiamo una girata. C'è un'altra c'è un'altra pista. Eh, vabbè. Vabbè, aspetta. Rigira. Aspetta, rigiro. Ecco. La tiro così. Luis! Luis Suarez! Con 80... Sono 85. Sono 85? Ma cos'è, ragazzi? No! Che tristezza, magari ci sarà una carta speciale. Uno degli attaccati più forti del mondo, con solo 85 di overall. Che peccato, ragazzi. 85 di attacco. Dai, senti un contatto, com'è? Liscia. Liscia? Allora sarà una... 3, 2, 1... Bam! Tadic. Tadic della Serbia. Non male. Ok, le rarità belle ancora devono farsi vedere. Peccato. Stiamo aspettando ancora le Double Trouble, le Icons, Top Masters. C'è anche la carta invincibile, quella sarebbe la... Eh, vabbè. C'è il Power Four. Ci sono delle belle rarità ancora da poter trovare. Però abbiamo trovato dei bei giocatori, eh. Sì. Suarez, Pogba. Le tre rare sono sicuramente una soddisfazione. Sì, uso. Con i Game Changers. I Game Changers si trova una in cinque pacchetti. Ah, beh. E per ti sono tre. Le tre fans favorite, una in due pacchetti. Quindi media comunque buona. Beh, in realtà per le medie della bustina sono anche tante rare. Ragazzi, l'episodio di oggi finisce qua. Io spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tutti un like per supportare il nostro lavoro su YouTube. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Beh, da Parola Malconici è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!